Ecco, parlo, vero scambio è forte, è una cosa, è stata così difficile convertire in partecipare, in partecipare, in partecipare, in partecipare, si sta integrando in partecipare, che non ci riconosceziano, con le bellezza di Spiglia, e poi, di più, di più, di più, di più. E poi ci riconosceziano, ci riconosceziano, ci riconosceziano molto, molto caldo.